benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi benvenute e benvenuti a una nuova puntata di molecole in scatola io sono paola rizzi sono docente di scienze tecnologie dei materiali e oggi sono qui con dominica scalarone docente presso il gruppo materiali polimerici del dipartimento di chimica bene dominica allora quello che vogliamo fare oggi è parlare di un materiale quindi io tiro fuori dalla scatola questa borraccia che è fatta in acciaio perché quello che dobbiamo spiegare oggi è quanto sono interessanti e utili i metalli nella nostra vita di tutti i giorni vuoi cominciare a dire tu qualcosa dominica ma paola veramente no perché io ero convinta che oggi avremmo parlato di quanto sono importanti nella nostra vita i polimeri ma dunque dominica in effetti sono anni che discutiamo di questa cosa io pensavo ormai di averti convinto che in effetti i metalli sono molto più interessanti già solo perché tutti sanno che cos'è un metallo mentre se io dico polimero plastica insomma anche io non so bene di cosa sto parlando guarda paola innanzitutto polimero e plastica non sono esattamente due sinonimi comincerei con polimero che cosa sono i polimeri beh sono delle grandi molecole organiche costituite da tante unità ripetitive uguali che appunto si ripetono all'interno della catena polimerica un pochino come gli anelli di una catena e la catena stessa gli anelli sono piccolini tutti uguali ma legati gli uni agli altri sono in grado di formare una struttura molto più complessa e più lunga come appunto la catena guarda ben pensarci anche noi siamo fatti di di polimeri certo di polimeri naturali biopolimeri perché le proteine dei nostri tessuti di fatto sono proprio dei biopolimeri cioè delle grandi molecole in cui le unità ripetitive costituenti caratteristiche sono gli amminoacidi interessante invece le plastiche le plastiche sono anch'esse dei polimeri solo che sono sintetiche quindi non sono prodotte dalla natura ma sono create in laboratorio oppure attraverso dei processi industriali interessante ma è però non mi hai spiegato perché si chiamano proprio plastiche certo hai ragione si chiamano plastiche perché una delle proprietà principali di questi materiali è appunto il loro comportamento plastico questo significa che si lasciano deformare molto facilmente e le deformazioni sono irreversibili in altre parole si tratta di materiali a cui è molto facile dare la forma che noi vogliamo per quanto questa forma possa essere molto complessa ti faccio un esempio una delle plastiche per noi italiani più importante è il polipropilene come mai importante beh importante innanzitutto perché serve a fare tantissimi oggetti dalle fibre sintetiche ai cruscotti delle automobili e poi per noi italiani in particolare è importante il polipropilene perché l'unico chimico che abbia mai vinto un premio nobel è giulio natta nel 1963 a cui venne riconosciuto questo importante premio proprio per i suoi studi che hanno consentito la sviluppo del polipropilene isotattico che è un tipo molto particolare di polipropilene estremamente ordinato ed è di fatto quello con cui sono costituiti tutti gli oggetti che ti citavo poc'anzi interessante però se si parla di plasticità in realtà anche i materiali metallici sono plastici un esempio sono i fabbri ad esempio adesso non ci sono più però li vediamo spesso nei film quindi quando prendono un oggetto di metallo lo martellano sull'incudine e questo cambia forma questa è una deformazione plastica e quindi molte volte i materiali metallici vengono proprio deformati ad esempio facendo una forgiatura che è un processo simile a quello che fa il fabbro oppure facendo una laminazione o uno stampaggio oppure un'imbutitura che è il processo che serve per dare la forma alle lattine in cui conserviamo le nostre bibite sì paola è vero però bisogna ammetterlo i polimeri sono più plastici possono essere deformati molto più facilmente e lavorati anche attraverso dei processi più economici ti faccio un esempio dei trattamenti a caldo e a questo proposito tiro fuori il mio oggetto che è una bottiglietta in pieti pieti significa polietilente reftalato è un polimero molto interessante perché è molto stabile chimicamente tant'è che viene utilizzato tantissimo nel settore alimentare e come si vede trasparente quasi come il vetro ma può essere lavorato a temperature decisamente inferiori rispetto a quelle del vetro come quasi tutti i polimeri può essere lavorato a caldo a temperature inferiori ai 300 gradi e tu dei metalli che cosa mi dici dunque in effetti per i metalli le energie in gioco sono un po diverse sicuramente già per la deformazione plastica sono necessarie più energie rispetto alla deformazione per i polimeri e anche se pensiamo un altro metodo per di produzione di un oggetto per dare la forma un oggetto come è la colata in uno stampo possiamo pensare ad esempio alle statue che vediamo in giro per torino che sono fatte in bronzo e in questo caso le temperature di fusione richieste per fare poi la colata sono intorno almeno 800 900 gradi però se pensiamo ai metalli i metalli hanno una caratteristica che è molto interessante e che li rende molto particolari ad esempio oggi indosso un anello che è di oro bianco mentre vedo che tu hai una fede di oro giallo tu sai come si fa a far cambiare il colore a questi oggetti devo essere sincera non ci ho mai pensato ma così al momento mi verrebbe da dire che forse si mescolano dei metalli diversi dunque in effetti sì nel senso che i metalli per loro natura sono dei materiali che sono molto socievoli e quindi amano stare insieme collaborare per fare delle leghe che hanno delle proprietà che sono diverse rispetto ai metalli puri ad esempio possiamo costruire delle leghe di oro che hanno dei colori che sono molto differenti fra di loro ad esempio se mettiamo insieme oro e rame il rame che come da puro è rossiccio rende un po' più rosso il giallo tipico dell'oro puro invece se aggiungiamo dell'argento possiamo rendere un po' verde il colore nel senso che l'argento diluisce il giallo dell'oro e se invece vogliamo fare dell'oro bianco possiamo ad esempio usare argento e palladio però in quel caso naturalmente la lega sarà più costosa perché mettiamo insieme dei metalli che sono preziosi e i polimeri fanno una roba simile? Devo dire che questa volta è toccato un tasto un po' dolente perché un limite dei polimeri è proprio che a loro non piace mescolarsi e quindi quando si cerca di fare dei miscugli di materiali polimerici in genere si ha uno smiscelamento cioè una separazione di fase però è anche vero che noi chimici abbiamo inventato una serie di trucchetti per ovviare a questo inconveniente il mio preferito ad esempio è la copolimerizzazione che significa in fase di sintesi far reagire non soltanto monomeri di un tipo ma monomeri di due tre tipi diversi che vanno poi a costituire le unità strutturali dell'ecopolimero e così facendo mettono nel materiale risultante le buone proprietà dell'uno e dell'altro polimero. Va bene allora provo a toccarti su un altro punto che è il riciclo e quindi prendo questa termos di acciaio e ti dico che questo termos di acciaio è fatto totalmente in acciaio riciclato quindi il 97 per cento del materiale che è stato utilizzato è stato riciclato questo perché i metalli si possono riciclare completamente basta metterli nel cassonetto giusto quindi fare la raccolta differenziata questi si possono recuperare rifondere e si possono riciclare riciclare all'infinito ad esempio le industrie automobilistiche stanno proprio cambiando le loro politiche e ad esempio per quanto riguarda le leghe di alluminio tendono a usare solo una particolare lega di alluminio di modo che quando poi l'auto viene rottamata questa lega può essere recuperata e utilizzata per costruire nuovi componenti dell'auto si può dire la stessa cosa dei polimeri? Certamente Paola guarda non a caso ho portato proprio questa bottiglietta di pieti che è fatta in polietilente reftalato riciclato e come vedi all'interno ci sono anche un paio di penne anche loro ottenuto ottenute attraverso dei processi di riciclo e ad essere a dire la verità se ci pensi in Europa addirittura un terzo di tutti i rifiuti in plastica in prodotti già ora vengono riciclati. Questo è molto interessante non me lo aspettavo. Ma senti Paola visto che tu mi stai sfidando allora io a questo punto ti dico ma i polimeri non si corrodono mentre invece mi sembra che per i metalli la corrosione sia un problema piuttosto serio. Allora qui abbiamo toccato un tasto dolente in effetti allora non è proprio così per tutti i metalli nel senso che se guardiamo la tavola periodica all'interno della tavola periodica c'è una zona proprio al centro della tavola periodica dove ci sono dei metalli nobili e questi metalli nobili sono l'oro, l'argento, il platino, il palladio, il rutenio, l'iridio questi sono metalli preziosi molto cari però in effetti se consideriamo tutti gli altri metalli la situazione è un po' diversa. Prendiamo ad esempio il ferro. Il ferro in realtà nelle sue nelle nostre condizioni di pressione e temperatura è stampile allo stato ossidato ad esempio dei minerali come la magnetite e se prendiamo quindi in considerazione il ferro metallico e lo lasciamo all'esterno quello che vediamo tutti e che conosciamo e che dopo un po' viene fuori la ruggine. Allora quello che hanno fatto però i metallurgisti nel corso dei millenni è stato trovare delle strategie per evitare la corrosione o per limitarla e quindi ad esempio riprendo in mano questa borraccia per dirti che questa borraccia che è fatta in acciaio inox e fatta in acciaio appunto inossidabile e inossidabile significa che io aggiungo oltre al ferro anche del cromo. Allora il cromo cosa fa? Vede l'ossigeno dell'aria e fa immediatamente un ossido però questo ossido a differenza dell'ossido di ferro è un ossido molto stabile che rimane molto ben aderente alla bottiglia e che forma quasi come una pellicola che isola perfettamente il metallo all'interno dall'ossigeno esterno e quindi impedisce a questo punto la corrosione del metallo questo è il motivo per cui gli acciai inox li utilizziamo in applicazioni in cui si richiede una buona resistenza alla corrosione. È molto interessante Paola però tu lo sai che anche i polimeri possono essere molto utili per la protezione dei metalli? No questo non lo so. Ma come Paola ma non ti ricordi il nostro progetto il progetto In Care? No non sapevo abbiamo un progetto insieme. Ma certamente è il progetto che in cui noi ci proponiamo di dare un contributo importante alla salvaguardia del patrimonio monumentale in bronzo del nostro paese. In particolare l'obiettivo principale del dipartimento di chimica all'interno di questo progetto è quello di sviluppare un protettivo polimerico che sia da un lato trasparente in modo che non alteri in alcun modo l'aspetto del monumento, che sia idrorepellente perché l'acqua è un grosso amico della corrosione e soprattutto che abbia delle proprietà anticorrosive che vengono impartite da additivi, inibitori della corrosione e stiamo studiando degli inibitori di corrosione più efficaci e anche più sostenibili per l'ambiente rispetto a quelli che troviamo nei prodotti attualmente in commercio. Ma quindi tu mi stai dicendo che se metalli e polimeri collaborano riusciamo a ottenere il meglio da tutte e due i materiali? Sì Paola, ben pensarci è proprio così. Ma quindi questo vuol dire che di nuovo la nostra sfida è finita pari, non ha vinto nel metallo nel polimero? Per questa volta mi sa che è pari patta. Va bene, allora non ci resta che salutare e invitarvi a una prossima puntata di Molecole in scatola. Molecole in scatola è realizzato dalla Commissione Public Engagement del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, da Un'idea di Francesca Turco, musico originali di Filippo Turci. Si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio. Le puntate sono disponibili sul canale YouTube del Dipartimento, sulla piattaforma Podcast Spreaker e su Spotify.